Allora, quali sono i due ingredienti più importanti in cucina secondo me? Tartufo? La pasta? Carne? Il burro? Questo poi in Italia nessuno lo direbbe mai. L'olio di oliva? Vabbè, quindi il tempo. Il tempo è fondamentale, perché tu puoi avere le migliori materie prime al mondo, ma se fai tutto di fretta sarà casino. A volte con materie prime decenti, se non buone, almeno decenti, però avendo tempo si riesce veramente a mettere assieme dei bei piatti. Il tempo in cucina è fondamentale. A parità di bravura e a parità di qualità delle materie prime, la persona che ha tempo produrrà un risultato migliore, a parità di capacità naturalmente. Quindi io lo vedo già da me, quando io cucino e ho fretta, non cucino allo stesso modo, è ovvio che no. Un po' per atteggiamento mentale, un po' per distrazione, perché la fretta aumenta la distrazione. Un po' per errori. Un po' perché non faccio certi passaggi, appunto perché ho fretta. E così via. Il tempo è un ingrediente per me importantissimo. Non so dirvi se al primo posto o al secondo, però stiamo qui tra il primo e il secondo. Fra, avevi detto due. È certo. C'è anche il secondo. E questo è ancora più strano. Però chi mi segue da tempo se lo sarà già immaginato. È l'amore. Cucinare senza amore. A volte anche col tempo, a volte anche con buone materie prime, a volte anche con buoni strumenti e a volte anche con la capacità di cucinare. Vengono fuori dei piatti che sono freddi. Freddi, senza passione, senza energia. Piatti io li chiamo distratti. Distratti perché manca l'ingrediente fondamentale, la cura, l'attenzione, l'amore della persona. Che l'ha preparato. Amore. Un giorno in Tanzania, loro dicono Tanzania in realtà, in Tanzania una ragazza mi chiese, io stavo ottenendo una lezione sulla cucina a un gruppo di cuochi, erano 15 cuochi di un ristorante che stavamo avviando, mi chiese quale fosse il mio ingrediente più importante, quello che non deve mai mancare. Io risposi l'amore, lei mi guardò stupita e io precisai. Amore per le materie prime, che vanno trantate con rispetto. Amore per la persona che mangerà. Amore per quello che si sta facendo, dobbiamo amare, cucinare. E amore per se stessi, il cuoco deve amare se stesso. Perché se io non amo me stesso, è dura che io possa amare gli altri. Ed è dura che io possa amare ciò che sto facendo. L'amore per se stessi è un aspetto fondamentale della vita e che si riflette naturalmente anche in cucina. Questi per me sono i due ingredienti più importanti da avere in cucina o mentre si sta cucinando. Tempo e amore, non necessariamente in quest'ordine. Saluti, baci e abbracci. Saluti, baci e abbracci.